Eccoci, siamo qui con Roby dell'Audace. Roby, a cosa ha dovuto tutto questo successo che ho visto che la serata è pienissima ed è stupendo? Tocchiamo ferro, per fortuna sì, ma sicuramente incide molto il bel tempo, la bella stagione che aiuta, aiuta tanto sicuramente. C'è un bellissimo esterno, una piatta meravigliosa come tu ben sai. Una buona combinazione quindi. Mix, la bella musica, la bella gente. Ma sai quanti ci hanno risposto l'Audace, il top del locale? Facciamo le interviste qua fuori e ci hanno detto tutto. Grazie a tutti quanti sicuramente, sono molto contento di tanto aggiungerti. Va bene, ascolta, avete un gruppo voi? Fatemi tutti quanti amici del gruppo Audace Cappé. Audace Cappé Trieste, mi raccomando. Perfetto, ciao, grazie Roby. Grazie a te.